Il mio telefono stamattina sta con me una pazza ha detto ma con me? Che sono uscito il carto fuori? La mogliere in posto dell'unice casa in d'estate e io ho già proprio persone è venuto l'amministratore che li scorre a bacio sa da rompere, sa da rompere il bagno le spese toccano a me a me ma non è che c'è la mogliere in posto la mogliere in posto unice casa in la metà 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 e da ci fa a piezza, ferro 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 non buttati giù guardate il partito del pilu qualunque mente come diceva il palese state qualcuno Brrrrrrrr